Il 27 gennaio è la giornata internazionale di commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo, del fascismo e dell'olocausto. In occasione del giorno della memoria abbiamo voluto raccontarvi la storia di Pierina Zampar. Pierina Zampar nel 1944 aveva 19 anni, viveva a Ronchi dei Legionari, in Friuli. Il primo giugno del 1944 fu deportata ad Auschwitz. La sua storia è incredibile, è sopravvissuta all'inferno dei campi di concentramento, è tornata a casa e ha scritto un diario. Sul suo braccio ancora il numero tatuato dalle SS. A raccontarci di Pierina è sua figlia, Liviana, e entrambe ora vivono a Ravenna. Ora che Pierina è una nonna anziana, è la figlia che si fa voce del racconto della madre. Le hai raccontato spesso di quei 15 mesi di deportazione? A me personalmente no, perché era una cosa che la faceva stare male, probabilmente anche, cioè, poteva pensare che mi desse fastidio. Però, quando parlava che qualcuno le chiedeva, io sentivo tutto. Sin da piccola io ho sentito questi discorsi qui e ho, sì, ho delle cose in memoria che mi ha raccontato mia mamma. La sua mamma in particolare ha scritto anche un diario, un diario personale, che non è mai stato pubblicato, se non in alcuni pezzettini che sono stati appunto citati da Pucci, dell'Istituto Storico di Vicenza. A voi capita di leggerlo, magari, questo diario? Io, devo essere sincera, il diario l'ho letto e per me, che sono la figlia, è stato difficile, è stato molto difficile. Però, perché è una cosa che tocca proprio, tocca tanto. È dura, è dura pensare che una persona possa aver vissuto una cosa del genere, specialmente la tua mamma. La tua mamma era giovane, aveva meno di 20 anni, 19 anni, quando? Sì, sta il 7 giugno, lei fa gli anni il 7 giugno, per cui è stata deportata in giugno, praticamente, quando ha fatto 20 anni. In quei 15 mesi lei, appunto, fu deportata ad Auschwitz e lì visse all'interno dei blocchi di queste baracche. Sì, baracche dove dormivano in questi, non erano letti, erano specie di letti a castello, ma non so quanti, dormivano lì ammucchiati e avevano come delle latrine lì dove andavano a fare i loro bisogni e lì stavano al freddo, senza chiaramente riscaldamento, senza niente, con uno straccio addosso, perché dal momento in cui loro sono arrivati ad Auschwitz, li hanno rasati dalla testa ai piedi e gli hanno messo praticamente un camice col buco per la testa e per infilare le braccia a righe e poi dopo li hanno marchiati perché gli hanno fatto il numero nel braccio e venivano chiamati col numero. La mattina partivano presto che andavano a lavorare o nei campi o nelle fabbriche, con gli zoccoli ai piedi, per cui al freddo, tutto quanto. Quando tornavano a casa alla sera, stanchi dopo, anche 12, 13 ore di lavoro, non so quanti chilometri, facevano a piedi, li facevano stare in piedi anche due o tre ore per fare l'appello che li chiamavano prima di mandarli nelle baracche. Le picchiavano e ridevano mentre lei rubava le bucce di patate, lei rubava, prendeva le botte e scappava via con le bucce, diceva, nella mia testa pensavo, ridete quanto volete, intanto io adesso le ho rubate e me le mangio, le bucce di patate. E poi, volevo dire, lì nel campo di Auschwitz, dove c'erano i forni crematoi, che anche quelli hanno cercato di distruggere per non lasciare tracce dei forni così, e di queste sale dove c'erano le docce, dove gli facevano credere che li portavano a fare le docce, in realtà rilasciavano il gas per farli morire, per poi cremarli, no? E ha detto, e noi vedevamo questo fumo che usciva, però dicevano, state zitti, non dite niente, non si possono nominare, perché se qualcuno accenna ai forni viene portato via. Mia mamma dice, io mi ricordo, le urla, probabilmente loro, dopo quando io sono andata, siamo andate ad Auschwitz con la guida, e io ho chiesto spiegazioni, ma com'è possibile? Mia mamma dice che si ricorda le urla che uscivano dai forni, perché mettevano, cioè, in queste docce dove rilasciavano il gas per far morire la gente, per dire, se c'è andavano un tot di persone, gliene mettevano di più. Per cui c'erano delle persone che non erano morte completamente, le buttavano dentro il forno in crematoio, che non erano morti completamente, erano solo storditi. Ma ci pensate voi? Per ammazzarne di più, mettevano dentro queste sale più persone e non morivano completamente, erano solo stordite e le buttavano dentro il forno in crematoio. Mia mamma dice che c'era sempre nell'aria questa pussa, questo gas, questo odore acre, e per forza, era carne bruciata. Nei vari trasferimenti da Auschwitz ai altri luoghi, a un certo punto fu anche utilizzata nelle fabbriche per... ...dove costruivano la, mi sembra, la V1 e la V2, l'arma che doveva, dicevano che se finivano quella lì, poi dopo i tedeschi avrebbero vinto, e allora cercavano, siccome gli uomini erano divisi dalle donne, gli uomini cercavano di mandare dei bigliettini, di sabotare, di non andare avanti bene con i lavori, allora loro cercavano di sabotare, anche prendendosi botte, prendendosi bastonate, perché se si accorgevano che tu facevi una roba del genere, che sabotavi, rischiavi la vita, capito? Nella storia della sua mamma, durante questi 15 mesi, a un certo punto c'è un evento felice, alla fine, quando riesce a rincontrare il suo papà? Che non aveva riconosciuto. Tramite un prete, è riuscita a incontrare mio nonno, che non aveva riconosciuto, perché lei pensi che mio nonno era alto quasi due metri, ed era 40 kg, l'ha riconosciuto dagli occhi che piangeva. Vi capita mai di parlare di queste cose o è un argomento che si preferisce evitare per chi la turba ancora? No, mia mamma ne parla, ne parla, anzi, anche quando vede qualcosa in televisione che io a volte voglio girare, no no, fammi vedere, mi dice, mamma ma ci stai male? E' lo stesso, voglio vedere, ci sono stata, voglio vedere, lo so che ci sto male, però è più forte di lei, è più forte di lei, è una cosa che ha vissuto e che non vuole dimenticare, che anche se ci sta male, è una cosa che vuole ricordare, dice, tutti dovrebbero saperlo. Anche se solo chi l'ha vissuto lo può capire. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.